Ciao a tutti dal Cinecarni e sono da Braplay e questo è il mio canale Oggi quando l'avete letto dal titolo vi farò vedere i miei due disegni di Miraculous ma anche altre cose e molte di più Non lo so Iniziamo Come l'avete visto è una postazione diversa Infatti sono nella camera dei miei genitori Bene Che dire Al mio 3, 2, 1 Ci sarà Comparirà qui nelle mie mani Il primo disegno 3, 2, 1 Go E' apparito veramente Comunque C'è questo che è il primo disegno Che ho attaccato a questa figura di Ladybug Ma l'altro devo dire è molto bello Però l'ho appeso E che dire Questo un attimo lo possiamo Ecco Ecco 3, 2, 1 Go Eccolo qua Ancora non l'ho finito di colorare Comunque questo è Chat Noir L'ho fatto davvero Scrivetemi sotto nei commenti Se l'ho fatto bello E qua c'è Ladybug E qua la nostra cara amica Anti-bug C'è non dire amica Antipatica Volevo dire Comunque Ancora devo finire di Colorare Comunque Questo è Chat Noir Questo è Ladybug L'ho fatto con Non mi ricordo se l'ho fatto Con i colori a spirito O a matita Non lo so Comunque qua Tiene il suo bastone in mano Lo yoyo è atticcato alla sua cinturina Comunque le codine sono queste Comunque Andiamo alla prossima cosa 3, 2, 1 Go Ragazzi siamo qua Perché non ho cercato tutta la casa E non ho più niente di Miraculous E niente Per non finire qua questo video Vi presento un ospite speciale Cioè mio fratello Gioele Saluta Gioele Ciao Ciao Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate Un pollicione in su Iscrivetevi al canale E ciao Ciao